Ciao da Ruggero e benvenuto al primo episodio di Note dal batterista. Siamo arrivati alla seconda Big Idea contenuta in questo disco e ti sto parlando delle trovate magiche di Phil che mette in questo brano che si titola Behind the Lines. Allora, Behind the Lines in realtà è un brano che era già uscito nell'album dei Genesis Duke, ma l'arrangiamento qua è completamente differente. Ovviamente qua Phil ha aggiunto i fiati, cosa che in The Ayrtonite non c'erano, e anche il tipo di feeling che usa nel groove è diverso da quello dei Genesis. Questo brano fondamentalmente è, oltre ad essere un po' più veloce rispetto alla versione dei Genesis, è anche, io lo definirei Light Half Time Shuffle, cioè contiene un po' di shuffle nei sedicesimi ma non è marcatissimo come ci si aspetterebbe. C'è e non c'è, infatti non c'è sempre. Questo è quello che ho notato io risuonando. Questo brano contiene almeno tre magiche idee di Phil e partiamo subito dall'intro, dall'inizio del brano. Qui Phil suona un groove molto semplice, scarno, con la cassa su 2,4 senza rullante e il Charlie che, oltre a tenere il flusso di ottavi, sottolinea gli anticipi dell'1. Infatti in questo brano non c'è l'1 all'inizio della battuta ma è anticipato di un sedicesimo ed è anticipato anche dal basso e dai fiatti. Quindi è un cosiddetto kick, un accento, che lui sottolinea con delle aperture di Charleston. Ti faccio notare che Phil, essendo un batterista secondo me molto fusion oriented, tende a non suonare a pattern, quindi se ci fai caso anche nella trascrizione e in quello che ti suonerò io nel video, non è un pattern che si ripete ma soprattutto sul Charlie suona continue variazioni. Quindi è impossibile da riprodurre fedelmente, dovresti trascrivere nota per nota tutto. Io mi sono limitato a trascrivere secondo me il 99% perché mi ci sono dedicato bene sopra, mi interessava farlo bene. Ti accorgerai subito che il mood che c'è in questo brano, oltre ad essere molto più frizzante rispetto a In The Air Tonight, è un tipo di sound molto soul. Non dimentichiamoci che Phil è un super amante dei dischi della Motown, la celebre etichetta soul degli anni 60, per cui registravano Ray Charles, Aretha Franklin e altri. Troverai diversi richiami all'interno di questo album a quello stile musicale, te ne parlerò anche nei video successivi. Arrivando alla strofa, seconda magica idea, ti accorgerai che Phil suona il Charlie accentando sempre il levare, questo da una spinta propulsiva in avanti, così come questo famoso accento sul da, quarto sedicesimo del quarto movimento, spinta propulsiva in avanti e il Charlie sempre il levare tiene il pezzo molto su come energia. Il BPM non è altissimo, è 102, per cui non è che stiamo parlando di un tempo up, è un tempo medium, ma con l'escamotage del Charlie il levare il groove è molto energetico, e la cassa in quattro stabilizza tutto, ovviamente qui nella strofa Phil mette il rullante su due e quattro, ma si aiuta accentando il famoso quarto sedicesimo del quarto movimento con un accento sul rullante e un'apertura di Charlie, per cui da un punto di vista tecnico è interessante da suonare questo groove, perché non è così scontato come sempre. Alla fine di ogni giro Phil suona un fill, appunto, che ti consiglio di guardare attentamente perché usa un tipo di orchestrazione non così scontato e prevedibile come avrei per esempio fatto io, non avrei fatto quello che ha fatto lui, per cui mi sono dovuto sforzare per rifarlo, per rimetterlo a posto. Poi alla fine della strofa c'è il ponte, il bridge, ok? Nel bridge Phil toglie la cassa sull'1.3 e la mette sotto al 2.4 del rullante, e il Charlie si regolarizza sugli ottavi, e è vero che aiuta con un accentino leggero, non molto marcato, sempre sul quarto sedicesimo del quarto movimento, ma anticipa questo 2.4 con una leggera apertura sul Charleston, e questo è tipico del suo stile, lo fa spesso. E per esempio, se non è tipico del tuo stile, cercare di riprodurlo subito non è semplicissimo, ma se ci riesci scoprirai l'effetto che fa, perché c'è una ragione per cui lui apre quel Charlie prima del 2.4. Crea una sensazione di attesa per questo 2.4, di anticipo, ok? Sono sempre idee molto intelligenti, mai buttateli a caso, mai. L'altra grande idea di Phil è come suona la C del brano, cioè dopo il ponte si va in questa C, dove mette la cassa in quattro, come nella strofa, e comincia ad aprire il Charlie sulle vare, sull'ottavo in levare, quasi disco dance, ok? Ovviamente alla Phil Collins, non è al disco dance come da cliché. Alla fine di questa C c'è un obbligato molto interessante, grande idea di arrangiamento, si conclude il ciclo del brano con una serie di obbligati suonati tutti all'unison, tutta la band, fiati, basso, tastiere, suonano tutti insieme questi accenti, che trovi sempre trascritti qua. Nota l'orchestrazione e l'uso dei drag per gli ultimi accenti nella seconda battuta di due quarti. Una battuta di quattro quarti e una di due quarti, per poi tornare da capo. L'ultima big drummer's idea di questo brano, che come vedi ci ho fatto un bel lavoro sopra, è lo special. Molto interessante perché qui Phil apre, come si dice in gergo, sulla campana del ride il levare, cambia completamente il pattern della cassa rullante, completamente, non c'entra più niente, aggiunge degli accenti sul rullante sul quarto sedicesimo del secondo e quarto movimento, e poi è interessante vedere anche come arriva a preparare e sottolineare gli accenti finali di questo special. Anche qui tipica scrittura da quasi big band, un po' come fanno band tipiche del funky soul, come Tower of Power, o gli Earth, Wind & Fire, o i Blood, Sweet & Tears. Quindi questo brano è molto interessante, ci sono tantissime idee da vedere, ti consiglio di ascoltarlo e ti consiglio di guardare attentamente il mio video che segue questa spiegazione. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok, anche la seconda big idea intitolata Behind the Lines è terminata, ti consiglio sempre di scaricare il PDF, suonaci sopra, ascolta il brano e noi ci vediamo nel terzo video con Hand in Hand. A dopo! Ciao!